Che faresti se non dormissi mai, boh? Anch'io sono ossessionato dal tempo. C'ho proprio il terrore di sprecarlo, di non riuscire a vivere appieno le mie giornate. Sì, questo ormai è chiaro. Ma non capisco perché lo vieni a dire a me. Buongiorno! Nella vita io non ti vedevo a colazione. È vero, Lu? Sicuro di stare bene? Sì, perché? C'ho un botto di cose da fare. Vado, ciao! Io non dormo più. Cazzo non dormo più! Non dormo più! Non dormo più! Cornettino caldo? Fonda mandanna. Mandanna? Mi sono appena svegliato. Io tra poco stacco. Che fai stasera? Luca, ascoltami. Roberta non è come noi, ok? Con le donne, tu ci devi andare giù duro, capito? Come fossi un... Come car armato! Sì, bravo. Come un car armato, capito? Senza pensarci. Tanto quello che vogliamo noi lo vogliono anche loro, giusto? Giusto! Ecco. Cosa che vogliamo noi esattamente? Dovete! Dare attenzione, Gerry! Plaga il tuo Demolo! Fatto a dormire. Buonanotto. E ridagli questa buonanotte? Oh, 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 oh. Oh, Fretigiano! Portami via! Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao! Oh, che cazzo c'entra la casa Ricarda! Di quegli occhi chiari... Ritai non c'è paragone